Siamo nella bottega di Aldo Caliro, maestro scultore di San Biagio dell'Ibrae. Siamo qui perché il maestro ha fatto un'opera eccezionale, un presepe in miniatura, mini, mini, mini. Dunque, trattasi di uno spillo e sulla testa dello spillo ho riprodotto la Sacra Famiglia. In effetti, San Giuseppe, Madonna, Bambino e l'Angelo. Li ho scolpiti a mano utilizzando questi che si vedono qui sul piano. Sono tutti strumenti chirurgici, quindi bisturi, forbici, tutto quello che pinze molto piccole, come si può vedere. Ho realizzato queste sculture e le ho cablate sulla testa dello spillo e con l'ausilio di un solo pelo del pennello li ho dipinti. Come possiamo vedere nella bottega, il maestro è specializzato in oggettistica di presepi, sedie, secchi, cestelli. Ma questo presepe, come ha detto prima, non verrà venduto, verrà donato. Sì, io in effetti, beh, mi sta venendo proprio in idea. Vorrei donarlo al Museo di San Martino per tenerlo esposto. Comunque, non perché voglia, chissà, dimostrare che cosa, ma comunque far vedere agli altri che si riesce, anche nel piccolo, a tramandare le tradizioni, a riportare avanti la tradizione del presepe e che comunque anche gli altri, che dopo di me, che andranno a vedere qualche cosa, potranno dire o è la miseria, ho visto un presepe forse il più piccolo del mondo. Grazie. 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 Grazie.